Mai caldo come quest'anno, stavolta era davvero tutto pronto a Campitello Matese per un Natale o una fine anno sulla neve. Le alte temperature invece hanno solo permesso i collaudi degli impianti che pure sono stati effettuati. Nei giorni prima di Natale, il 21, 22 e 23 dicembre, sono stati collaudati quelli delle piste del Caprio e Capodacqua. Le prove sono andate nel migliore dei modi e si attendeva solo la neve per rivedere gli sciatori sulla montagna di Campitello. La stessa sciovia di San Nicola attende il collaudo che deve avvenire necessariamente in presenza della neve. È stato provato anche con l'innevamento artificiale, con la neve sparata dai cannoni, con lo sfondo di un cielo azzurro, ma il caldo non ha consentito nemmeno questa possibilità. Dunque tutto rinviato ai prossimi giorni in attesa che il tempo cambi e il barometro volga la lancetta verso la bassa pressione. Tuttavia gli amanti della montagna non si sono lasciati scoraggiare. Sul pianoro di Campitello c'è gente comunque passeggiate a piedi, escursioni a cavallo e per i più esigenti i giri con il quad sono possibili in queste giornate di sole con zero nuvole all'orizzonte. Nessun problema, si prevede il pienone nei ristoranti per l'ultimo dell'anno per chi la tradizione preferisce trascorrere la notte di San Silvestro fuori o in vacanza aspettando che la neve torni a imbiancare le piste.